Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Però prima vi ricordo ovviamente il like Non serve che ve lo dico ovviamente Per questa serie so già che avete riempito il video di like E se volete anche far conoscere questa serie agli amici Fatelo con una condivisione E fatemi sapere quindi se siete nuovi Così vi posso anche ringraziare Vi lascio un bel cuoricino Anche se condividete questo video Andiamo però adesso Ok eccoci qui ho preso anche danno Non so da dove Mi sono tipo ingiastrato qua sopra Ho preso danno vabbè Ok organizziamoci un attimo Una cosa che abbiamo sbagliato forse È non aver messo nemmeno una mappa Tipo questa Per Iron Man Quindi se lui adesso si è scongelato Ed è praticamente vivo Non sa dove andare E non vorrei che si imbattesse Alcuni pericoli Quindi adesso vediamo se è ancora là Io spero comunque Rimanga là Perché dai Non conosceva il mondo Magari esplora un po' Però rimarrà comunque nella zona Allora lasciamo qua un po' di cose Che non ci servono intanto Tipo tutte queste cose qua Non hanno Non ci servono proprio Quindi lasciamole qui E ci prendiamo invece Guarda qua Dell'Ossidiano Questa potrebbe servire Perché Nel prossimo attacco Perché sicuramente Veremo attaccati di nuovo Di nuovo in quel villaggio Arriveranno altre guardie Per liberare Thanos Dovremmo cercare appunto Di difendersi Il più possibile Quindi magari Se costruiamo una barricata Ecco potrebbe agevolare Un pochino E lo scontro Prendiamo giusto qualche altro blocco Quindi Però adesso direi di andare Perché la notte arriverà a breve Probabilmente Già la prossima notte Potremmo ricevere un altro attacco Se non è questa Sarà la prossima Sicuramente Quindi vediamo di muoversi Dobbiamo andare adesso In questa direzione Più o meno qua Mi ricordo anche A memoria Dove devo andare Ma nel caso comunque Ho preparato qui anche Le mappe Torce ne ho Ok Almeno riusciamo a vedere qualcosa Noto che nel momento Non c'è nemmeno nebbia Si C'è scuro C'è veramente tanto buio Non so se riuscite a vedere qualcosa Voi Io vedo fatica Però la nebbia Non sembrerebbe esserci Almeno al momento Beh almeno questo Scusiamo anche un pochino Martello Ma Facciamo prima Comunque ci tenevo intanto A ringraziare Anche i vari abbonati nuovi Alcuni erano già ringraziati Comunque nella live di ieri Però ecco Ringrazio comunque di nuovo Dark Hunter Matti36UfficialP TheKingTheKing Alan Yolo DarkShadowItal GeometryYouTube XAphiro E Dani Da Cico Spero di aver pronunciato giusto Grazie tantissimo per esservi abbonati Oggi ci sarà anche un post Comunque nella sezione Community Vi farò scegliere A voi abbonati Il video Che vorreste vedere Il video di domani E intanto qui Dovremmo Essere Arrivati Sì Sì Spero che ci sia Perché veramente Se no abbiamo fatto un errore Che potrebbe costarci Tanto Ok Vedo tanta acqua Quindi in teoria Si è sciolto Eh sì Si è sciolto Però non vedo Non vedo Ironman Ok Questo Potrebbe essere Un problema Però È una cosa comunque recente Perché le torse qua Sono ancora qui Di conseguenza Ipoteticamente Il ghiaccio Si è sciolto Meno Di 5 minuti fa Facciamo così Lasciamo qui Una cesta E all'interno Lasciamo la mappa Per tornare a casa Dove c'è anche il portale Così sicuramente Lasciamone anche un po' di cibo Non si sa mai Eh Magari ne ha bisogno Visto che è rimasto Ghiacciato Per tanto tempo Ecco Forse è meglio fare così Lasciamo anche una pozione Di invisibilità E Non lo so Basta così può andare Direi Giusto qualcosa Di base E poi basta Così almeno Quando tornerà qui Perché sicuramente Starà esplorando Arriverà qua E magari ecco Si accorge della cesta E magari E capisce appunto Che deve Assolutamente Venire qui Dovete abbia lasciato la mappa Ecco Seguire la mappa Purtroppo non ho legno Per fare cartelli Quindi Direi che così Può andare Adesso facciamo una cosa Non abbiamo tempo per cercarlo Sicuramente sarà ormai notte Quindi speriamo che non siamo Che non arrivi un attacco Proprio ora Dobbiamo Adesso Tornare indietro E vedere Di difendere Di rinforzare il villaggio Di difenderlo Se necessario Chiaramente Sarà sicuramente necessario Ok si Sono qua fuori E effettivamente Come potete vedere È notte Corriamo il villaggio Sperando che ecco Ci sia stato un minimo di tregua Magari Spero ecco sì Devo solamente sperare Che non attacchino Ogni notte Anche perché non abbiamo Non siamo là Prima cosa E soprattutto anche Stiamo attenti E soprattutto Non siamo pronti Per un altro attacco Perché già abbiamo rischiato L'ultima volta Di fare una brutta fine Però ci abbiamo fatta Adesso sicuramente Arriveranno Con più rinforzi Sicuramente Quindi dobbiamo Per forza andare Magari però Si stanno organizzando Anche loro Per attaccare Forse non si aspettavano Che trovavano ecco Un imprevisto Di questo tipo Quindi dai Vediamo intanto Di correre al villaggio Velocemente E di organizzarsi Sperando ecco Che non sia sotto attacco Mettere giù quel villaggio Vi ricordo ovviamente Che se non siete iscritti Iscrivetevi assolutamente Domani ci sarà Video più live Ah mi raccomando Ci sono imprevisti Che purtroppo Ci sono sempre Dai che ci siamo Ok Sembrerebbe essere Tutto intatto Comunque E molti mi avete consigliato Anche di rompere tipo Le torsi restano Là sopra Però non so Se è qualcosa di strano Ecco Magari l'hanno fatto Quelli del villaggio Per mantenere Tentare di mantenere lontani Questi esseri cattivi Anche questo totten qua Magari mettendo appunto Le teste di questi wither Magari Li tiene lontani O almeno l'idea Era questa Però mi sa che Non sta funzionando Questa idea Qui dai Al momento qui Non vedo nessun Nessun attacco Nessun soldato Nessuna guardia Stiamo comunque molto attenti Direi ecco Di controllare un attimo Il villaggio E di iniziare Con rinforzare Ecco appunto Le difese Soprattutto della torre Vorrei giusto controllare Un attimo il perimetro Che non ci sia qualcuno In avvicinamento Da queste parti Perché non si sa mai Tra l'altro Mi sono appena ricordato Che Dobbiamo fare una cosa Dobbiamo controllare Una zona Che penso che Controlleremo Proprio a breve Ma c'è anche una torse di resto Stiamo attenti Che Non è che mi piaccia tanto Infatti in molti Mi avete fatto notare Una cosa Ovvero Vicino a una coltivazione C'è tipo Ci sono due blocchi Abbastanza sospetti Che sembra quasi Nascondere un passaggio Adesso quasi Quasi li controlleremo Sì volevo Sì volevo giusto controllare Dall'alto E non ci fosse nessuno Perché Là abbiamo un ottimo visuale Però un attacco Potenzialmente potrebbe arrivare Dalla taiga Da questa zona nascosta Eh sì Anche perché Questi skatery wither Corrotti Sono anche Molto Si limitizzano molto facilmente Nella taiga Però vabbè dai Smettiamo di dire cose ovvie Andiamo a controllare Stiamo attenti Qua andiamo a controllare Ecco la piantagione Che molti avete Ecosizzato Che ci sia appunto Un passaggio segreto E mi sa che è proprio qua Beh effettivamente È un po' strano È Dai controlliamo Però sì Dobbiamo controllare in fretta Perché dobbiamo prepararci Per la prossima notte Perché se questa notte Appunto non siamo stati attaccati La prossima È ancora più probabile Che veniamo attaccati Sperando che intanto Iron Man ci raggiunga Perché il suo aiuto Sarebbe veramente prezioso Ok che senza tuta Però noi abbiamo una statuta Anche che si di livello Comunque abbastanza basso È meglio di niente Quindi magari ci aiuta Comunque anche con la tuta vecchia Però ecco Può sempre aiutarsi Magari può potenziarla Magari sa come ripararla Vedremo insomma Dai speriamo intanto Che arrivi Già quello sarebbe Tanto E comunque Prendiamo l'armatura Un'ottima combinazione Un'ottima combinazione Questo Direi di provare A fare così Anche perché comunque Avete visto Comunque il martello Si è forte Però in queste situazioni Forse Dato che sono in tanti I nemici Non possiamo affrontarli Tutti insieme Potremo appunto Tentare di combattere A distanza Magari ci mettiamo Sopra la torre E tentiamo di combattere Appunto da sopra La torre Così riusciamo Tipo a prenderli Alla sprovvista Magari Già magari Vediamo avvicinare Li attacchiamo Già un pochino Da lontano E poi Faremo dei scontri Avvicinati Con il martello Direi che è l'ideale Contriamo perché Qua c'è anche una chest E oh mio dio Pozzini di rigenerazione Cavolo Me lo devo prendere Allora Ci sono anche vari totem Allora mi prendo un totem Guarda qua Anche tantissime frecce Criptonite Oddio Fumo Gas Criptonite Esplosive Frecce esplosive Addirittura Oh mio dio Perfetto Dobbiamo subito Uscire da qua Rinforzare il villaggio Poi Avremo sprecato Le risorse Usato le risorse Andremo a prenderci Tutte queste altre Risorse qui E utilizzeremo Spreghiamoci Dobbiamo rinforzare Un pochino Le difese Potenzialmente Attaccheranno Da questa parte Quindi direi Che qui Potrebbe essere Un ottimo punto Per costruire Ecco Un muro Difensivo Direi che È l'ideale Giusto anche Per rallentarli Un pochino Poi se Se vanno qua Nell'acqua Meglio Perché potrebbero Appunto Rallentare Tantissimo Quindi Potrebbe essere Un'idea Farli andare Qui Nell'acqua Quindi potremmo Costruire Tipo Una barriera In questo modo In modo tale Da costringerli A procedere Qua Nell'acqua E nell'acqua I mostri Comunque anche Questi qua Corrotti Sicuramente Saranno Più Lenti Quindi direi Che così Può andare Benissimo Eh sì Costruendo di fretta Risco di perdere Più tempo Perché come vedete Risco di piazzare Blocchi a caso Torce e tutto Quindi forse è meglio Se facciamo le cose Con calma Tanto di tempo Ne abbiamo Ancora dieci minuti Abbondanti Dato che è ancora notte Quindi ok Un altro punto Che è abbastanza Critico Potrebbe essere Questo Quindi forse è il caso Di Riparare un pochino Meglio questa parte Qua Nell'altro Nell'altro Nel scorso episodio Qua hanno addirittura Distrutto Hanno messo A TNT Perché qua sotto C'è la base Dove è rinchiuso Thanos Però direi anche Di rinforzare appunto Dove è chiuso Thanos ecco E li potremo utilizzare Benissimo Anche L'ossidiana Vediamo intanto Se c'è Sì sì C'è ancora Abbiamo fatto bene A controllare Non si sa mai Vediamo appunto Di potenziare Tutta questa parte qua Facciamo così Abbiamo utilizzato Addirittura anche La La bedrock Però ecco Meglio non sprecarne Troppa Qua parte qua Maledetto Sì Molti avete ipotizzato Di ucciderlo Però sinceramente Se riusciamo A difendersi E tenerlo prigioniero Penso sia L'idea Migliore Queste torce Le possiamo Anche togliere Continuiamo qua Con l'ossidiana Ovviamente E le mettiamo Anche qui sopra Direi che così È molto 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 Più protetto Moltissimo Quindi dai Richiudiamo Più o meno Qui E direi che Può anche andare Si si può andare Benissimo così Chiudiamo un attimo qua Giusto per rinforzare E così Potrebbe Anche andare bene E si è giorno Abbiamo poco tempo Ora eh Abbiamo pochissimo tempo Vorrei giusto controllare La rammatura Di Iron Man L'abbiamo lasciato qua sopra Vero? Sì Ok Quindi se serve È qui E niente Viene di attendere Rinforzare un attimo il villaggio E poi E poi sì Arriverà l'attacco Sicuramente Ci tenevo anche comunque A ricordare che Nella sezione playlist Del canale C'è la playlist completa Di questa serie Che ormai Sta andando Avanti da davvero Tanti mesi È una delle serie Più apprezzate Ok Ho creato Un muro Anche qui E un'altra parete Anche qua Così almeno abbiamo Quest'area Un pochino più protetta Dovrei mettere Un'altra parete Giusto qui E poi direi Che basta Dobbiamo prepararci Trovare un punto Abbastanza in alto Per poter Difendere il villaggio E poi Speriamo che arrivi Iron Man Ma poi Appunto Dovremmo resistere Il più possibile Ho finito anche Le pietre ora Finiamo un attimo Con l'ossidiana E adesso sì Dobbiamo sperare Io direi di fare Una cosa di questo tipo Visto che questa zona È l'unica Scoperta Ci potremmo mettere Sopra quella casa E sparare In questa direzione Perché da tutte le altre parti È tutto C'è la barriera C'è il muro Quindi l'unica zona scoperta È questa qua Quindi noi sì Possiamo metterci Precisamente Qua sopra Vediamo se riusciamo Vabbè facciamo con l'ossidiana Un po' non spreco Però ok L'ossidiana è molto resistente Quindi dai Possiamo anche permetterci Di utilizzarla Per questo Per questo In questo caso Ecco E direi che così È perfetto Guardate Abbiamo un'ottima visuale Questa casa è perfetta Sì Abbiamo un'ottimissima visuale Anche sulla torre E anche soprattutto qua Perché questa potrebbe essere La zona dell'attacco Là è chiuso Là c'è l'acqua Quindi rallentano Quello che vogliamo Se entrano da là Così possiamo sparare da qui Lì faranno fatica ad entrare Qui tutto chiuso Anche là faranno fatica Anche lì faranno fatica L'unica via d'accesso È esattamente questa E qui possiamo colpirli Tranquillamente E fermarli Manca poco la notte Mancano 5 minuti Andiamo a prendere Tutto il materiale Che abbiamo visto prima Dopodiché Saremo pronti Per combattere E mi sa che questo video Sarà abbastanza lungo Rispetto alla media Soprattutto anche per vendo Di solito facerlo Sui 15 minuti di media Questo mi sa che sarà Un pochino più lungo Quindi comunque Spero non vi dispiace Preparatevi Datevi a prendere le patatine Popocorna Bibita Perché qua Ne abbiamo un bel po' da fare Allora direi di Organizzarsi in questo modo Inizieremo con le freghe Frecce di kriptonite Visto che ne abbiamo Veramente tante Dopo se si dovesse Mettere male Direi di passare A quelle esclusive Quindi ce le teniamo Magari ecco Qui vicine Se dobbiamo ottenere Assolutamente anche Le mele Beh penso che Il piccone non ci serva Ci teniamo Due pozioni di rigenerazione Mele alla portata Varie frecce qua Dopo si Quindi queste Dobbiamo metterle di lato Se no mi sa che Va a utilizzare Prima queste qua Ecco facciamo così Siamo sicuri Poi abbiamo quelle esplosive Che in caso di necessità Possiamo tipo Sostituirle Direi che può andare Direi che può andare Ok controllato il perimetro Per l'ultima volta Mi sono messo anche Il totem Nell'altra mano Qua Ok non si può accedere Dai Io direi che ci siamo Si si è veramente Difficile salire qua Devono per forza rompere O piazzare blocchi Cosa che magari Quelle guardie lì Non fanno Ci siamo Ci siamo Ci siamo Non mi faccio uno scudo Perché comunque con l'arco Uno vedere che ha arco e scudo È un po' strano Penso che dobbiamo puntare Più sull'agilità E resistere a vari colpi Col totem Visto che abbiamo anche Pozioni di rigenerazione Direi che va bene così Dai forza Dobbiamo Dobbiamo sedire qua adesso E prepararci Perché potrebbe Esserci un attacco adesso Iron Man purtroppo Non l'ho ancora visto Sembra essere anche Aumentata un pochino La nebbia in questo momento Però Ok Quanto manca la notte Manca poco Rigeneriamo Mangiamo le mele Giusto per stare tranquilli Anche con la rigenerazione E adesso si Dobbiamo Stare molto attenti Perché potrebbero arrivare A momenti Controlliamo un pochino In generale In giro Ma dovremmo concentrarsi Secondo me Da questa parte qua Eh si Perché di là È tutto abbastanza protetto Dai Vediamo come va Se non l'avete messo Il like Ci porterà fortuna Vediamo eh Vediamo quanti lo metteranno Ora È notte È notte Teniamo sotto controllo Questa zona Vediamo se c'è del movimento Ogni tanto Mari guardiamo Anche là Che non ci sia Qualco Esplosione Di là Esplosione di là Oh mio dio Non vedo mostri però Poi mi sono nascosti Da qualche parte C'è stata un'esplosione là C'è stata un'esplosione là O che sia un diversivo Potrebbe essere eh Potrebbe essere un diversivo Dato che non vedo No Ci sono Ci sono Ci sono Attacchiamoli Guardate le frecce queste qua Sono fortissime comunque Sono veramente forti Ci sono anche degli mostri strani Come potete vedere Stanno anche nascondendo Non vorrei che Iniziassero ad entrare anche Oh mio dio Esplosione Esplosione di nuovo qua No vabbè Dobbiamo scendere da qui Dobbiamo assolutamente scendere Mi sa che qua Vogliamo puntare ad attaccare lì Come hanno già fatto Molto probabilmente Quindi scendiamo Stiamo attenti Perché potrebbero essere in tantissimi Facciamo qualcosa che non si aspettano magari Entriamo da qua Sì sì infatti Eccoli qua Oddio Attacchiamoli Attacchiamoli Ci sono anche degli zombie strani Strani Uh quello anche Cos'è Una guardia strana Ma c'è anche quello piccolo Attacchiamolo da qui Questo metodo sta funzionando per il momento Questo metodo sta funzionando Cado però sono in tanti C'è anche qualche arciere C'è anche qualche arciere Purtroppo oddio Questo mi stava per arrivare addosso Comunque non male Come siamo organizzati Per il momento Va alla grande Non so se entrare qua Non lo so Potrebbe essere un pochino Pericoloso effettivamente Eh purtroppo non ci sono tanti ingressi Per entrare qua sotto Quindi non ce lo facciamo noi ora Al momento qua Perché sento comunque Ci sono dei Dei grigi finiti Quindi potrebbe Essersi qualcosa di brutto qua sotto Vediamo subito di Di controllare quindi Ok qua c'è la costruzione Vediamo Sì ok siamo giusti Vediamo come è la situazione qua Eh infatti ci sono tanti qui Però non stanno riuscendo Chiaramente a Oh mio dio Quanti Oh mio dio No qua servono le frecce esplosive Ci sono tantissimi qui Qui servono le frecce esplosive Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Oh mio dio Cos'è avuto Oddio Wither Le frecce esplosive stanno funzionando Da grande comunque Le frecce esplosive funzionano da grande Guardate qua che roba Perfetto E comunque sì L'ossidiana Non si può Rompere con le frecce Esplosive Dov'è il Wither? Dov'è il Wither? Oh mio dio Non so C'è un Wither da qualche parte Però non lo vedo Non lo vedo purtroppo Dobbiamo andare qua E vedere dov'è Assolutamente Oddio è qui È qui sopra Cavolo no 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 Così non va bene Rigeneriamo con una mela Allontaniamoci Dov'è? Non lo vedo Non lo vedo Ah mi sta seguendo Mi sta seguendo qua sopra Dovevo per forza scappare qui Dovevo per forza tentare di scappare Entriamo qui dentro Ok Entriamo qui dentro Rigeneriamo E andiamo di sopra Cavolo Si sta mettendo male eh Si sta mettendo male Qua si sta mettendo abbastanza male C'è un momento di tranquillità ora C'è un momento di tranquillità Ah è là È là È là Forza Eh ma viene subito da noi Viene subito da noi Mi sa che vuole tentare di Uccidere qualcuno che c'è da dentro Probabilmente Non lo so Forse aveva notato l'armatura Proviamo con le frecce criptonite Magari sono un pochino più forti E beh effettivamente si Effettivamente si Però qua Ci sta attaccando noi ora Non male eh Fresce criptonite sono forti Però si qua ci sta Letteralmente distruggendo Torniamo qua al riparo Torniamo al riparo Cavolo Dov'è Dov'è La situazione è un pochino critica Il guider è veramente forte È veramente forte il guider Oh mio dio E ci sono ancora tanti Tanti altri mob là Come potete vedere Cerchiamo di farli fuori Ma è qua sopra E sta anche rigenerando Tantissima salute Non so proprio cosa fare Dobbiamo concentrarci sul guider forse È l'unica Però appena lo colpiamo Arriva da noi Oddio lì c'è uno zombie stranissimo Sembrava quasi un nero Brian strano Guardate Questo zombie di è stranissimo Forte anche Molto molto forte Qualcosa è ferito qua sopra No mi sa che sta tentando di rompere sicuramente l'armatura Cavolo è qui infatti Ho perso il martello Ho perso il martello Purtroppo l'ho lanciato Però l'ho ferito parecchio il guider Eh ma è questo il problema Il problema è proprio il guider ora Ok mi è tornato il martello Altro zombie strano là Ok Non so cosa fare Sinceramente Non so proprio cosa fare Ok non lo sento più qui Mi sa che si è spostato Eh infatti ecco l'audio È da sopra Eh però Cioè ci vede su Oh mio dio guarda chi c'è là Sta laggando Sta laggando mi sa Sta laggando Sta laggando Sta laggando Tanto Si è frittato il gioco Si è frittato il gioco Ok Ok Sto laggando tantissimo Forse vedete a scatti Cosa cavolo È successo Attendiamo un attimo Che si riprenda il gioco Perché sta laggando tantissimo Ok si sta un pochino Riprendo il gioco Se vedete a scatti È più che normale C'è stata un'esplosione Enorme Oh mio dio Però il leader Mi sa che ha fatto Una bruttissima fine Questo è sicuro Oddio l'armatura Che avevamo Si è stata distrutta L'esplosione Si è rimasto in vita Grazie al totem Però complessivamente Ce l'abbiamo fatta Quindi In teoria In teoria Si Grazie a qualcuno Però ce l'abbiamo fatta Oddio quanto lagg E poi tra l'altro Prima è sembrato Di aver visto Un martello Qua però Magari era il mio Glicciato Non ne ho idea Oddio Ancora Sembra Avesse tutto chiuso Si si Tutti I mosti Sono spariti Oddio Ma sembra Ancora abbastanza intatto Per fortuna Adesso si Anche l'alba Effettivamente Allontaniamoci un attimo Questa zona Perché sta laggando Tantissimo E non male Ce l'abbiamo fatta Con l'aiuto Chiaramente di qualcuno Ma ce l'abbiamo fatta E questo è importante Non male Villaggio distrutto Disintegrato Però La prisione c'è ancora Io direi di fare una cosa Adesso dobbiamo concludere Assolutamente questo video Però se volete un altro video A breve Lasciate il like Così capisco che ne volete altre Esplosioni fino qui Guardate Oddio Fino là addirittura Seriamente Ok Anche dalla montagna È stato colpito Dall'esplosione Va bene E niente Vi ricordo il like Appunto Se avete un altro episodio Fatemelo sapere Però direi che adesso Dobbiamo assolutamente Trasferire il prisioneo In un altro luogo sicuro E nascosto Quindi dovremo esplorare Nel prossimo episodio E trovare un luogo sicuro Per poterlo portare là Vi ringrazio tantissimo Per aver visto Il video Ci vediamo Domani In un altro video Domani ci sarà anche una live Nel prossimo episodio Quindi niente Non so che dirvi Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima